Svelata nei primi mesi del 2013, la Suzuki S-Cross è da poco arrivata anche sulle strade italiane. Forte di 34 allestimenti e del sistema di trazione All Grip, che permette di affrontare anche impegnativi tratti in fuoristrada, il crossover del sollevante si rivolge a un pubblico eterogeneo grazie a un listino prezzi a partire da 16.790 euro. Linee morbide, design rassicurante, indole da moderna crossover ma anche spirito indomabile in condizioni di off-road. Dopo una vita passata al servizio dei duri e puri dello sterrato, Suzuki indossa l'abito gentile, premiando la forma senza rinunciare alla consueta sostanza con la nuova S-Cross, un'auto versatile e fortemente poliedrica che proprio grazie allo stile si propone di intercettare un pubblico trasversale a grande vocazione familiare. Tratti scolpiti insomma, ma non troppo. Quanto basta per dare il giusto look all'erede di una SX4 che in 4,30 metri di lunghezza racchiude spazio per 5 e un bagagliaio dal doppio fondo di 430 litri di capacità e oltre. Pratico, essenziale ma altamente funzionale invece l'abitacolo che, come da filosofia Suzuki, non si perde nei fronzoli, pur non disdegnando dotazioni di livello dispensate attraverso gli allestimenti Easy, Style, Top e Starview. Centellinata anche la scelta dei motori, due unità benzina e diesel, quest'ultima con un turbocompressore a geometria variabile, entrambe 1.6 e con 120 cavalli, ma soprattutto accomunate da consumi contenuti e da emissioni comprese tra i 110 e i 135 grammi di CO2 per chilometro. Le novità portate in dote dalla SX però non si fermano qui. Il 1.6 benzina porta infatti al debutto una nuova trasmissione automatica CVT estremamente fluida, confortevole e sportiva allo stesso tempo grazie alla possibilità di agire sul cambio a sette rapporti anche tramite le palette al volante. Ad installare, a richiesta, il tradizionale DNA Suzuki sulla nuova SX, ci pensa poi naturalmente l'immancabile trazione integrale, qui rappresentata dalla nuova tecnologia All Grip. Dieci le tinte della carrozzeria disponibili per personalizzare una SX che è possibile elevare ulteriormente di livello con il tetto panoramico Starview in cristallo a tutta lunghezza. A partire da 19.400 infine un listino che per il mese di ottobre godrà di un prezzo promozionale di attacco da 16.900 euro in caso di rottamazione o permuta.